allora signori come fare un pannello termoidraulico partendo dall'immondizia signori questo qui è uno di quelle serpentine che stanno solitamente dietro i figuriferi non so se avete presente ma perché qui da queste parti ci butta tanti quell'immondizia che sono riuscito a prelevare questo diciamo questa serpentina qua signori questa serpentina qua no è praticamente è un tubo non so se riesco a farlo vedere vedete la terra per sopra come posso assicurare che è un tubo se mette a fuoco vedete un tubo dove ci passa dentro un liquido pare che da quelle parti si utilizza il butano o il freon oppure altri liquidi meno diciamo impattante con nell'ambiente però va benissimo pure l'acqua per quello che per fare una cosa così sbrigativa semplice acqua di rubinetto signori comunque basta mettere queste tubi qua no attaccarli a una piccola pompa la nera di questo sotto al sole e ogni tanto faccio girare l'acqua signori allora il nero questo qui è un vernice nero dovrebbe assorbire molto di più rispetto agli altri vernici l'irradiciamento solare sia quello di visibile che quello lì infrarosso che è microonde cioè tutto quello che non viene bloccato dalla gas atmosferici ma pure gli ultravioletti pure quelli scaldano che voi pensate col buco dell'ozono il buco col buco dello strato di ozono voglio comunque signori allora ho detto basta mettere questo qui sotto ma pure più di uno più ne riuscite a trovare le mettere i collegati insieme le mettere sotto al sole così no anche se non riuscite a farlo direzionabile pure si può fare qualcosa signori comunque l'efficacia di questo coso poco e nulla perché signori fai prima a pigliare un po' di gas bruciarlo un po' di legna bruciarlo e farci il fuoco cioè meglio il carbone usi le carbonaglie comunque questo non è colore giusto comunque questo sistema qua non è proprio il massimo del massimo questo lo potete fare no soltanto quanto sarebbe la disperazione insomma a questo punto converrebbe no pigliare un bidone come questo no possibilmente nero metterlo sotto al sole e si scadono lo stesso ma questo è tanto proprio per come si chiama proprio per è un più che altro un gioco un giochino perché se uno deve campare con questa roba qua è più che terminato questo però può essere buono può essere buono le altre cose no ti puoi farti l'ombreggiatura questa non so se avete presente la rete ombreggiante quella specie di rete verde non ce l'ho qua però sta messa da parte comunque con la specie di rete verde se avete questo potete mettere che so quando il sole è troppo forte no mettete questo e avete risolto però ricordare di metterlo dal verso giusto perché questa c'è delle scanalature perché se lo mettete così magari fa un tipo di ombra se invece lo mettete al contrario fa forse è più ombra ecco qua così dovreste fare più ombra di estate può andare bene farsi un tetto con queste cose qua finisce che poi ci schiatti di caldo no perché c'ho il capannone e no vabbè capannone tutto quanto completo però dove sta il glicino si riesce a stare d'estate comunque va bene voglio far vedere una cavolata tante salute e vota no ma vabbè se non è altro abbiamo riciclato qualcosa dall'immondizia se l'ho buttata da ferri vecchi questo è pare che sia rame non lo so potesse pure che sia rame no è troppo tosse per essere ferro cioè è troppo morbido per essere ferro almeno il la griglia dovrebbe essere fatti ferro il tubo dovrebbe essere fatto di lame ma però non c'è una calamita per cosa come guardare signori si vede dalla ruggine vabbè magari lo scrivo sotto in descrizione che cos'è danni saluti e vota ombra